Allora avete visto qui qua da qualche domenica il Milaudo spediamo il banchetto là in fondo di Verona Pride a parlare di quest'importantissima iniziativa, abbiamo Alex e Sebastiano dove stanno con lui, un applauso che si fanno un tanto tanto per organizzare insieme ai grandi questo evento, adesso ci devono dire qualcosa perché quello che noi pensiamo quando diciamo quando devo andare al Pride sabato 6 giugno, pensiamo di uscire di casa e andare, ma quello che c'è dietro un po' ce lo raccontate voi di quello che avete bisogno, sono tante le ore di lavoro che dedicate, avete bisogno di gente, fate il vostro appello. Grazie a tutti, buonasera Milaud! Allora anzitutto vi porto i saluti di Elver Parisi e di Ivana Spagna che sono stati ospiti a Romero e Love, il podcast alle CPT di Verona che supportano il Verona Pride, sono qui come vedete con l'alza bandiera, stasera non sono venuto da solo e ho portato anche per Violetta che è la più acculturata delle tre, mi guarda quello che mi dicono, l'invito per uno spettacolo che avverrà a questo parte di Algrato Camploi e che si chiama Le cose cambiano, è un spettacolo contro l'omofobia a offerta libera, siete tutti invitati a venire perché è un evento a supporto del Verona Pride che si svolgerà ovviamente qui nella nostra bella Verona il 6 giugno, sabato 6 giugno 2015. L'ora dello spettacolo giustamente è alle 21, grazie a Violetta Grazie, quindi vi aspetto tutti quanti intanto mercoledì per questo spettacolo e poi soprattutto il 6 giugno al Verona Pride per chiunque volesse la maglietta, la bandiera, le spillette, precedente e quant'altro, c'è un banchetto nel fondo e per i più generosi anche l'alzabandiera sarà incluso nel banchetto. Inoltre io sarò a fare la piccola fermiferaia all'uscita quindi ci vediamo anche lì. Questo è tutto per il momento ma questo è il motivo per cui noi siamo qui in Radai per provare a cambiare questa città fino a piano e quindi ce la stiamo veramente mettendo tutta ma abbiamo bisogno di voi, quindi chi vuole fare il volontario, se avete un negozio volete sponsorizzarci, chiunque, qualunque tipo di foto, è benvenuto. Grazie, Violetta, divertiamoci! No, perché se nessuno muove il culo queste cose non si fanno, scusate per il culo. Vuoi dire qualcosa, Alex? Questo è un'occasione per la città, non la verrà l'anno prossimo, non la verrà negli anni successivi, per cui questo è l'anno, questo è il momento e se non lo facciamo adesso non lo facciamo più. Per cui io vorrei veramente invitare tutti a partecipare anche internamente perché è un'occasione bellissima per crescere, per conoscere delle persone e per darsi da fare. Quindi il mio invito è proprio partecipare attivamente perché è un'occasione che non sappiamo quando si riproporrà nuovamente. Per cui grazie ancora. Buona serata! Ciao!